Un'attività indiscriminata di recupero dell'evasione tributaria in merito alla tassa sui rifiuti e all'imposta comunale sugli immobili, imposta municipale propria, è quanto accusa l'opposizione del Comune di Vallo della Lucania ai danni dell'amministrazione comunale. Infatti, secondo gli oppositori, l'ente comunale non avrebbe aggiornato le proprie banche dati dei versamenti effettuati negli anni dei contribuenti e conseguentemente emetterebbe accertamenti al buio per colpire nel mucchio. A tal proposito, non tarda ad arrivare la replica del primo cittadino Antonio Aloia, niente di più infondato, spiega Aloia. Come noto, il settore che si occupa dell'attività di recupero è stato creato ex nuovo come struttura a sé stante nel corrente anno proprio allo scopo di potenziare la capacità di gestione delle entrate e di recupero dell'evasione, coordinando meglio e stimolando l'azione del soggetto deputato all'attività di accertamento che, affianca il Comune dal 2013, è tenuto per contratto a completare il proprio compito fino all'anno di imposta 2017, continua Aloia. Grazie a tale riorganizzazione e all'impulso dato dal nuovo responsabile, è stata avviata la riscossione coattiva riferita agli accertamenti eseguiti negli anni precedenti divenuti esecutivi per il decorso del tempo di legge ed è stata programmata e calendarizzata l'emissione dei nuovi accertamenti in modo da arrivare al 31-12-2018 con la notifica degli atti di accertamento per tutte le annualità prossime alla prescrizione, appare ovvio che un'attività simile implica un attento studio ed una ponderata selezione degli accertamenti da notificare sulla base delle informazioni esistenti nelle banche dati che sono state costantemente aggiornate anche alla luce degli esiti degli accertamenti degli anni pregressi. In questi casi, gli errori laddove esistenti sono stati immediatamente sanati senza alcun problema con il contribuente. Nella qualità di rappresentante legale di capo dell'amministrazione, sento il dovere di tranquillizzare la cittadinanza chiedendo ad ogni singolo contribuente di non farsi furviare dagli allarmismi suscitati dai sobbillatori di turno, rassicurandoli circa la legittimità dell'azione di recupero dell'evasione tributaria e sulla piena disponibilità degli uffici, tanto del comune quanto del concessionario, per qualsiasi chiarimento o rettifica, ovvero corra della loro posizione tributaria, ha concluso così il sindaco della città di Vallo della Lucania, Antonio Aloia.